Buongiorno e bentornati in un nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di usare like e attivare la campanellina per stare sempre aggiornati. Oggi, come tutti i giorni, facciamo l'aggiornamento per quanto riguarda il periodo natalizio. Cominciamo a dire che tra il 20 e il 23, verosimilmente, ci sarà una perturbazione in transito in tutta Italia che porterà a piogge abbondanti soprattutto nelle regioni meridionali. Per quanto riguarda il giorno di Natale, quindi il 25, diciamo il periodo tra il 24 e il 26 dicembre, sono esclusi eventi gelidi, per questo appare probabile un Natale abbastanza stabile, sia a livello climatico sia a livello precipitativo. Comunque serviranno ancora aggiornamenti perché è un continuo muoversi dell'alta creazione e del flusso atlantico. Per quanto riguarda il periodo del Capodanno, dobbiamo andare a analizzare la situazione soprattutto nel continente asiatico, dove la copertura nevosa si sta espandendo. Di conseguenza, in questi giorni ci sono temperature veramente molto molto basse. Infatti, grazie a tutto ciò, l'assa del Vardo Ciepolare si disporrebbe in maniera favorevole per un affondo freddo di stampo artico o anche siberiano. E tutto questo a partire, diciamo, dal 31 dicembre in poi, fino ai primi giorni, fino all'epifania. Ovviamente vi ricordo che ci sono vari movimenti da tenere in considerazione, quindi la previsione potrebbe cambiare. Vi ricordo di iscriverti al canale per stare sempre aggiornati, con nuovi appuntamenti in medio. Inoltre vi ricordo che chi vuole si può iscrivere ai canali di Nayyan Chan e Fabrizio 1961. A presto!